Questi sono i fiori per la Madonna del Buon Consiglio e spero che siano fatti bene. Deve essere fatti bene per Gesù e per la Madonna. Mi piace fare i fiori, sinceramente. Mi piace sistemare e adubare l'altare di Gesù e della Madonna. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!